I combines di Rochenberg. Rochenberg trovava oggetti che lo interessavano per le strade di New York City e le portava al suo studio dove potevano diventare parte integrante del suo lavoro. Reclamò che lui voleva qualcos'altro di ciò che poteva fare da solo, utilizzando la sorpresa insita negli oggetti raccolti dalla collettività, attraverso i quali vivere il senso generoso della sorpresa. E se all'inizio non fosse stata vissuta come una sorpresa, ci sarebbe stato un momento in cui l'avrebbe raggiunta. Così l'oggetto in sé, essendo estrapolato dal suo contesto, diventava una cosa nuova. Il commento di Rochenberg riguardante il vuoto creato fra arte e vita poteva essere visto come un'affermazione che fornisce un punto di partenza per una comprensione dei suoi contributi come artista. In particolare la sua serie di opere che aveva chiamato Combines servivano come esempi per mostrare che i confini delineati fra arte e scultura potevano essere spezzati, così che entrambi potessero essere presenti in una singola opera d'arte. Tecnicamente per Combines si riferisce ai lavori di Rochenberg realizzati tra il 54 ed il 62, ma l'artista aveva iniziato a lavorare con i collage di carta di giornale e materiali fotografici con l'impeto di combinare sia i materiali da pittura che oggetti di tutti i giorni come l'abbigliamento, rottami urbani e animali tassidermici. Impeto che si concretizzò nell'opera Monogram. Continuò con questa tecnica per tutta la sua vita artistica. Le sue opere transitori che condussero alla creazione di Combines furono Charlene e Collection, entrambe del 54, dove combinò tecniche di collage. Qui iniziò ad incorporare oggetti come sciarpe, nastri, comici e parti di fasulli cornicioni architettonici. Uno dei primi dei Combines realizzato nel 55 dal nome Bed venne creato sgocciolando pittura rossa attraverso un piumino. Il piumino più tardi veniva disteso e mostrato come se fosse un'opera d'arte. Alcuni critici, secondo The Daily Telegraph, consideravano un tale opera come un simbolo della violenza e dello stupro. All'inizio i critici vedevano le Combines più in termini di aspetti formali dell'arte, dove la forma, il colore, la struttura e la composizione erano a disposizione di questi. Questa visione degli anni 60-60 è cambiata nel tempo. Così più recentemente i critici e gli storici d'arte vedono le Combines come portatrici di messaggi codificati difficili da decifrare, in quanto non esiste un ordine apparente alla presentazione degli oggetti. Per esempio, Kenyon del 59 rappresenta la raffigurazione di un'aquila pelata farcita che esprimeva l'ira del governo a causa del Bell and Golden Eagle Protection Act del 1940, ma la capra d'angora farcita con la pittura sul muso nel suo monogramma del 55 fino al 59 non era oggetto di controversia.